Sì, soffo, 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 soffo! Ti pensi che come sto allenato in questo periodo? E' veramente alla grande prova, meh! Sto troppo forte, ciao! Ehi, voglio domani la rivincita alle tre! Alle tre domani? Domani alle tre mi sposo! Cosa è vero? Facciamo le cinque! E due ore! Alle quattro e me sto qua!